Buongiorno a tutti, sono Ana Maria Mia Blazi, lavoro in Co. come responsabile della ricerca e sviluppo del prodotto a marchio e ho lavorato nella realizzazione della linea cosmetica Vivi Verde. Vorrei innanzitutto ringraziare tutti per la vostra numerosa partecipazione, perché il vostro passaparola ci ha permesso di raccogliere l'opinione di tutti coloro che si sono rivolti al marchio Vivi Verde. Ma oggi non sono qui solamente per ringraziarvi, ma anche per parlarvi nel dettaglio della nostra linea cosmetica. Questo progetto nasce tre anni fa, con la volontà di proporvi qualcosa di diverso rispetto a quanto già presente sullo scaffale. Una linea che parlasse di bellezza, utilizzando la natura come fonte di ingredienti e principi attivi di origine naturale da utilizzare nelle formule e con un'unica promessa, quella di prendersi cura della pelle, in modo naturale e nel rispetto dell'ambiente. Credetemi raggiungere questo traguardo non è stato facile. Riuscire a formulare prodotti senza siliconi, polimere e altri ingredienti sintetici. Ci vuole una grande esperienza, esperienza che abbiamo riscontrato nel nostro partner, che ha collaborato con noi nella realizzazione di tutte le formule. Inoltre, formulare un prodotto per avere le stesse caratteristiche di spalmabilità e assorbimento sulla pelle di una linea convenzionale utilizzando il 98% minimo di ingrediente naturale è stato per noi oggetto di grandissima soddisfazione. Per quanto riguarda i profumi, abbiamo scelto delle fragranze senza allergiene da dichiarare per minimizzare il rischio di allergie e sul PEC abbiamo fatto delle scelte specifiche per diminuire il quantitativo di conservante e fare in modo che molti di questi fossino di origine alimentare. Infine, un mix di valori che formano parte della filosofia di Koch che è quella di parlarvi a voi attraverso i nostri prodotti. Sicuramente è solo l'inizio. Ci sarà ancora molto da fare, magari qualche formula da modificare, ma già su questo ci siamo presi un grande impegno. Per quanto riguarda la campagna di lancio della linea, l'idea di utilizzare Zaber è stata fantastica. La partecipazione dei consumatori e la raccolta delle testimonianze della loro opinione sul prodotto a marchio è stata per noi molto importante. Infatti, tutte le vostre critiche preziose e utili ai consigli saranno prese assolutamente in considerazione per fare in modo di proporvi sempre di più prodotti all'altezza delle vostre esigenze è assolutamente un prezzo più conveniente. Spero di avervi dato qualche spunto in più per provare la nostra linea cosmetica. Non mi resta che ringraziarvi e vi aspetto alle prossime novità. Molte grazie. Grazie. Grazie.